Giornalismo e letteratura a Cava dei Tirreni con la settima edizione del premio Comete, una rassegna di rilevo nazionale di scena a Cava dei Tirreni con scrittori e giornalisti che vengono giudicati da una doppia giuria, una di adulti ed una di giovani studenti delle superiori e con un premio speciale poi alla memoria di Giancarlo Siani. Archiviato l'incontro con Emilio Novi e la dittatura dei banchieri con tante verità inconfutabili e rinviato l'incontro con Paolo Ferrero per motivi elettorali, il prossimo appuntamento è il primo febbraio con Giuliano Santoro ed il suo Un Grillo Qualunque. Silvia Lamberti è il presidente del premio Comete, da dove vengono i riscontri maggiori, le soddisfazioni migliori? La nostra è una città che ha sempre coltivato gli interessi culturali in vari campi, noi partiamo dall'assenza di un teatro. Devo dire che il target nostro di riferimento è quello che ha dato la risposta migliore, quello dei giovani, degli studenti delle scuole superiori. Le dirò che abbiamo registrato una grande novità, una parte dei budget delle scuole non vengono destinati all'acquisto di ausili digitali ma all'acquisto dei nostri libri, il che è rivoluzionario, oserei dire. Poi c'è comunque la risposta di tutta quanta la città, a seconda dell'autore e dell'argomento che viene trattato, vi sono poi delle porzioni di target più limitate che partecipano, interagiscono con la nostra manifestazione di volta in volta. Pasquale Petrillo è l'ideatore e l'anima del premio Comete, una rassegna che decreta il trionfo del libro? Indubbiamente sì, però noi abbiamo la capacità, una scelta, quella di essere sempre in sinergia, siamo in sinergia con il territorio, con le scuole, con le varie associazioni, con il mondo della politica o con il mondo dell'informazione, ma siamo in sinergia anche con internet, con i social network, noi li usiamo moltissimo, però andiamo a fermare anche il libro, perché il libro è il primo fondamento della cultura e riteniamo che comunque sia uno strumento preziosissimo e che non sia assolutamente eliminabile, anzi tutt'altro, va riscoperto e rivalutato, perché ultimamente c'è il rischio con l'utilizzo esorbitante di internet, quindi del mondo digitale, che il libro passi in seconda fila, così non deve essere e così non è.